per l'occasione avete anche allestito questa mostra allora questa mostra racconta tutta la storia racconta tutta la storia dell'arceria diciamo dal mesolitico in poi ovviamente delle notizie mesolitico ne abbiamo capito ci sono stati alcuni ritrovamenti gente in garanzo va alla guerra l'estazetani a ritornare a ritornare a ritornare per tutte le montagnole la senti la bus della sua muller alon alon o bella par girola alon alon a la posta maggiore a l'estetan che il bema di l'enguera a epec la taula su un po' a binda e l'onda fec una trista madonna che quanti bevo mi fa mangiare a l'estetan che il bema di l'enguera a epec la taula su un po' a binda e l'onda fec una trista madonna che fuori al freddo mi fa restare alon alon o bella par girola alon alon a la posta maggiore a epec la taula su un po' a binda alon 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 al Grazie a tutti.